L'agrumaria Corleone è un'azienda che produce ed esporta succhi concentrati di agrumi, ma anche i loro profumi e gli odori in tutto il mondo, tutelando e rispettando il territorio. Attraverso il nostro prodotto raccontiamo la Sicilia, cerchiamo di puntare sulla nostra origine siciliana come un marchio da esportare. Molti clienti, anche le grosse muzze nazionali, sono pronte a premiarci e sono anche orientate a comprare in Italia da ditte familiari proprio per questo motivo. I valori della nostra impresa famiglia sono innanzitutto l'amore, l'amore per la professione. Cerchiamo di trasmettere questo amore nei rapporti con il nostro personale, partendo dal presupposto che il valore di un'impresa, il successo di un'impresa è direttamente proporzionale al valore e al successo delle persone che lo sposano. Un altro dei nostri valori che vorrei sottolineare è la cultura della terra. La cultura della terra vuol dire anche avere poco impatto ambientale in diverse fasi del processo produttivo, favorendo logiche di riciclo, riutilizzo di materiali, raccolta differenziata, sempre nel rispetto appunto della natura che questa terra ci regala. Vediamo la nostra impresa come un attore sociale, come un promotore di benessere per la comunità che ci circonda e per questo ci impegniamo giornalmente. Abbiamo sempre fatto degli investimenti all'interno dell'azienda, nell'innovazione tecnologica, nelle apparecchiature del nostro laboratorio, nelle nostre certificazioni di qualità, quale la BRC, quale la ISO 9000 prima. Continuiamo sempre a investire nella ricerca e sviluppo. La nostra ricerca è la nostra ricerca. La nostra ricerca è proprio essere una famiglia, una famiglia unita, che è sempre un terreno solido dove poggiare i piedi. Fare impresa per me e per i membri della mia famiglia vuol dire avere trasferito nella nostra azienda tutti i nostri valori, tutti i nostri sogni, tutti i nostri progetti. Proprio per questo dobbiamo stare consapevolmente nel tempo, perché se fallisce la nostra impresa, fallisce la nostra famiglia e fallisce il sogno di tante generazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.